Avete presente quando ci sono i professori, non so se vi è mai capitato quando andavate a scuola o alle medie o alle superiori, magari non all'università perché è un concetto completamente differente, che si incavolano perché gli studenti hanno un periodo dove non rendono, quando vengono interrogati non rispondono, e magari il professore D'Adimato incomincia a dire vi boccierei tutti o vi rimanderei tutti, quando andavo a scuola io non so se c'era ancora, si rimandava a settembre, vi rimanderei tutti, vi boccierei tutti, perché è sottoresa come si dice, underperformer. Ecco, se la Juventus, come ho detto nell'analisi che spero abbiate visto, ha una rosa che sembra così scarsa, e sottolineo sembra così scarsa, è perché chi la deve gestire non ha dato nessun valore aggiunto ai singoli giocatori, perché non mi potete venire a dire che i 17 nazionali di differenti nazioni sono tutti scarsi, va bene? Io sono sicuro che in mano ad un altro allenatore scegliete voi quello che vi piace di più, Conte, Zidane, Klopp, Guardiola, Emery, Ancelotti, Tiago Motta, Italiano, De Zerbi, non detti un po', no? Sono sicuro che tutti questi giocatori della rosa, della Juventus attuale, renderebbero almeno il doppio di quello che stanno rendendo adesso. Primo sarebbero messi nei loro ruoli, quindi Locatelli non farebbe il regista più scarso di film trash, altro che monnezza nei film appunto di Thomas Millian, veramente per parlare di film trash, qui siamo dei livelli veramente di film da serie Z come regia, quella di Locatelli, perché Locatelli è un giocatore mediocre ma non è un regista, quindi lo si fa figurare ancora peggio di quello che non è. Per quello che riguarda tutto il resto va detto che una squadra che non fa due passaggi di fila corretti, sbaglia rinvii, sbaglia gli appoggi, sbaglia i lanci, sbaglia i tiri e si mangia i gol, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra e a mio modo di vedere forse sarò banale, forse sarò riduttivo, ma io riconduco tutto a colui che abusivamente siede nella panchina della Juventus e che si fotte 9 milioni tutti gli anni, perché se la Juventus va in Champions League anche quest'anno gli smollano 9 milioni, che per me sono un pochettino tanti, per quello che non ha dato e non dà alla Juventus. Chiedo scusa per la premessa, ma la dovevo fare perché altrimenti non capirete i voti di questa sera, dove ci sono soltanto due sufficienze, anzi tre, tre, di cui uno è subentrato. Partiamo dal portiere, Scesni. Anche questa sera Scesni si merita un bel 7, è il voto più alto, l'unico voto alto che ho dato, perché? Perché anche questa sera ha fatto un paratone che poteva essere un gol, ha sventato la disdetta, perché se andavamo a perdere anche il derby col Torino, dopo mi cadevano in depressione i giocatori che già sono depressi per avere questa capra in panchina, se poi mi vanno in depressione perché perdono l'ennesima partita della stagione, non è che il pareggio col Toro sia un gran risultato, però insomma hai mosso la classifica come si diceva negli anni di Trappattoni, negli anni settanta, un punticino. Peccato che adesso se ne sono tre quando si vince, non due come una volta. Per cui sette a Scesni che ci ha salvato il culo anche questa sera, bravo Voice che stai facendo un finale di stagione, stai dando una mano alla Juventus per andare in Champions League, bravissimo. Gatti. Gatti deve imparare a gestire la sua eroenza. A me Gatti, lo dico subito, piace tantissimo, l'ho detto più volte, ormai lo sapete a memoria, chi mi segue mi ricorda tantissimo Chiellini, si spinge in avanti, ha fatto il più bel cross della partita, l'ha fatto lui, dove si è stampato, avete visto cosa ha combinato Vlaovic, che si è mangiato due gol secondo me già fatti, ma questa è quella più nella mia personale, magari qualcuno la condivide, però poi deve imparare a stare più tranquillo e quando va in confusione fa un po' di danni. Diciamo che il suo voto sarebbe un 5, 5 e mezzo, però gli do 5 perché, ripeto, voglio che cresca e voglio che diventi più attento nelle cose che fa. Bremer, la seconda sufficienza su tre, gli do 6 perché il suo compito l'ha fatto, non ha fatto vedere il pallone a Duv, a Duv, a Duvan, Duvan? Noi abbiamo Duv, loro hanno Duvan, Duvan, Duva, 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 Duva. Pissate che roba, vabbè, scusate, farnetico, Duvan Zapata non gli ha fatto vedere il pallone, Duvan Zapata è in forma smagliante perché sta facendo gol ed è quello che tiene in piedi il Torino, per cui io gli do 6 perché il suo compito l'ha fatto. Quando esce con la palla al piede, mettiamoci le mani davanti agli occhi perché in genere si incasina un po', però insomma, piuttosto che Danilo, è meglio lui, 6. Danilo, allora, Danilo io l'ho sempre premiato con dei 5 o dei 6 striminziti, anche se io dentro di me gli avrei voluto dare molto meno. Questa sera mi dispiace, ma siccome ho visto una ioventus imbarazzante e lui ha toccato moltissimi palloni e gli ha buttati tutti via, e se non siete d'accordo con me, lo dico senza cattivare, siete disonesti, perché gli ha tutti buttati via, per non parlare di quel tiro di merda che ha fatto, dove al limite dell'area, dove se tu prendi la mira, al limite incocciano i piedi di un avversario, al limite fai fare un paratone a Mininkovic Savi, ma non puoi tirare sulla Luna. Ed è il secondo pallone che viene restituito dalla stazione spaziale della NASA, alla Juventus. Fra un po' ci presenteranno il conto, perché gli astronauti non sono là per restituire i palloni della Juve, ma sono là per studiare i sistemi planetari. Per cui, 4 a Danilo, veramente una delle peggiori, anzi penso che sia la stagione peggiore in assoluto da quando è la Juventus, quindi giuntoli tenere presente questa cosa quando si rifà la Juve, perché questo Danilo è veramente imbarazzante e sta andando su con gli anni. Cambiaso. Cambiaso per me quest'anno insieme a McKenna, l'ho detto più volte, è stato uno dei giocatori più propositivi, migliori, ma questa sera complice il fatto che Allegri aveva paura del Torino, perché sapete, il Torino, tremare il mondo fa, come il Bologno degli anni 50, tremare il mondo fa, l'ha tenuto basso, l'ha tenuto schiacciato e quindi Cambiaso questa sera è stato castrato dal nostro tecnico. Per colpa del nostro tecnico prende 5, perché Cambiaso non ha combinato una minchia di niente. Locatelli. Ah no, McKenna, stesso discorso di Allegri, scusate di Cambiaso, stasera ha fatto una prestazione opaca. Lotta, forse è sempre uno dei migliori in campo, però ragazzi non è sufficiente per battere il Torino un McKenna così di questa sera, quindi 5. Locatelli. Locatelli, io sono stanco di giustificarlo perché è fuori ruolo, perché un giocatore di calcio, dopo 1, 2, 3 anni che fa lo stesso ruolo, qualcosina dovrebbe imparare. Io non sono un grande giocatore di tennis, me la cavicchio, però se io mi alleno tutti i giorni per 3 anni di fila con uno che mi insegna a fare i dritti, i rovesci, i lob, i top spin, tutti i colpi del tennis, a rovescio a una mano, a due mani, come volete voi, qualcosina in più rispetto a quando ho iniziato, dovrei fare. Lui invece, sistematicamente, è messo a regista basso e continua a fare dei lanci sbilenchi, non fa mai passaggi in verticale, tende sempre a fare il passaggino scolastico massimo due metri perché non si sa mai oltre i due metri rischi di sbagliarlo, di fatti quando ci prova lì canna, ha fatto ripartire 4-5 volte il Torino. Insomma, ragazzi, ma come cazzo si fa, vi era la Juventus, uno come Locatelli, dai, diciamo le cose come stanno, 4-4-4-4, Rabiot 4, avete visto? È tornato a Rabiot dei primi 3 anni, non c'è più il mondiale, anzi c'è l'europeo alle porte, tira indietro la gambina, non si sa mai che si faccia male, e Rabiot corre, è tornato, come dicevo, ai tempi di Sarri, vi ricordate? Lui corre, 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 corre per i cazzi suoi, non si sa dove, ma corre. Però alla Juve non è servito a un tubo, non ha fatto un cross, non ha fatto un assist, niente, di niente, di niente, 4, Rabiot, e beh, quando ce la vuo ce la vuo. Poi veniamo a Filippo, Filippino, quello che si chiama come mio fratello, Filippo Kostic, il voto dovrebbe essere 0, perché noi con Kostic, ormai, a parte la partita scorsa che l'ha tolto, ma è stata una delle poche partite decenti che ha fatto, noi con Kostic giochiamo sistematicamente con 1 in meno, penso che l'abbiano capito anche, non so, buh, le salamandre dello stagno del Po, oppure magari le lucertole della mia campagna. Ma Allegri continua sistematicamente a metterlo in campo, perché è vero che nel Ling non è tutta sta roba, anzi se nel Ling non imbarcano ci fanno anche, ci facciamo dei soldi, va molto bene, però francamente magari se provasse a rimettere Cambiaso come inizio stagione a sinistra dove aveva giocato benissimo e riprova a mettere Weah a destra dove aveva giocato benissimo, magari, però, ormai si è messo in testa sta roba, quando si mette in testa sta roba e fa certe funzioni non c'è un cazzo da fare, per cui questa sera il buon Kostic è stato inesistente, ha toccato 14 palloni, io me li sono segnati ragazzi, non mi sto inventando niente, i primi 14 palloni, 13 li ha passati indietro, uno lateralmente a Locatelli, questo è Kostic, ditemi a cosa cazzo serve Kostic alla Juventus, ha niente come la cartigenica senza il culo, ditemi a cosa serve, perfetto, due a Kostic, ovviamente, mamma mia che giocatore di merda, chiesa, allora, si dice che per costruire una Juventus forte si dovrà sacrificare uno dei tre big, i tre big, così, eh, seguo la corrente, sarebbero Bremer, Chiesa e Vlaovic, allora, Vlaovic, secondo me, con un allenatore come Dio comanda, fa i gol e ne fa anche tanti, Bremer è già forte adesso che abbiamo un cesso d'allenatore, immaginatevi con uno bravo, io Chiesa sarebbe quello che sacrifico, io Chiesa, perché Chiesa è un equivoco tattico, stasera giocava, per i cazzi suoi, eh, gli sono sicuro che non è colpa d'Allegri, giocava a destra, poi andava a sinistra, poi lo trovavi attaccato a Vlaovic, che gli si pestava nei piedi, poi veniva basso, poi si incazzava con Cambiasso, poi si incazzava con Kostic, con Kostic ha sempre ragione Chiesa, eh, quando qualcuno si incazza con Kostic ha sempre ragione, chiunque so sia, perché effettivamente gli dice, perché cosa cazzo continua a passare la palla indietro, però ragazzi, Chiesa, che abbiamo visto all'Europeo, Chiesa, che ci ha fatto sognare, Chiesa, che ci ha fatto vincere la Coppa Italia, compirlo, è tutta un'altra roba, eh, è tutta un'altra roba, cinque. Vlaovic, è vero che pronti via, gli è arrivata una palla che lui l'ha stampata sul palo, e quella io la posso anche, diciamo, immetterla nella categoria sfiga, però poi dopo, porca puttana, ti sono arrivati altri due palloni, uno te lo sei fatto prendere di ginocchio del portiere, lì a un metro dalla porta devi sfondare la rete, non la deve neanche vedere Alemini-Kovic-Savic, Karovlaovic, 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 e poi, questa sera, sei tornato ancora nell'equivoco di sbagliare gli stop, allungare, è vero che ti davano dei palloni di merda, però insomma, questa sera non mi sei piaciuto, io sapete che stravedo per lui, però, quel che è giusto, è giusto, o come dicono a Roma, quando ce l'ho, ce l'ho, cinque, 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 healing, cinque, non mi è piaciuto manco per il cazzo, proprio healing entra in campo, sembra spaesato, lo capisco, perché non è tenuto in considerazione dell'allenatore, quindi sicuramente lui è svogliato, però ragazzi, se tutti i problemi che tocca li perde, cioè, non posso dargli la sufficienza, quindi cinque. Ildiz, che io farei giocare fisso a titolare con Vlaovic, ricordate il periodo in cui la Juve a gennaio vinceva tutte le partite, le vinceva tutte, chi giocava in avanti, giocava Chiesa, no, giocava Ken, no, giocava Milik, no, chi giocava in fianco a Vlaovic, giocava Ildiz, perché secondo me uno apre gli spazi e l'altro la butta dentro, ha fatto due giocate, una meravigliosa, parata bene da Milinkovic, l'unica palla pericolosa delle due è stato lui a farla, in dieci minuti che ha giocato, e poi insomma, il giocatore c'è, non sente a fare, si vede che salta l'uomo, che ha tecnica, che ha tecnica, e l'ha fatto giocare, gli va fatta prendere confidenza come fece a suo tempo tra pattoni con Del Piero, ok, e poi Lippi, altrimenti, altrimenti signori, questo qui ce lo bruciamo, però Ildiz, ti do un segreto, porta pazienza a sei partite, perché dopo ti arriva un allenatore vero alla Juventus, stai tranquillo, dopo arriva un allenatore vero, bene, sei, Ken, Sandro e Alcaraz SV, perché chiaramente, non si sa perché li ha messi in campo, Ken non ha toccato un pallone, Sandro non ha toccato un pallone, Alcaraz ne ha toccato uno e l'ha perso, perché poveretto, lo metti in campo a partita morta, quindi non è che può fare molto, sapete che io il voto all'allenatore non lo do più, perché io, è da un mese che per me all'allenatore non c'è più nella Juventus, difatti i giocatori vanno in campo un po' così autogestiti, alla cazzo di cane, che poi sarebbe il gioco dell'allenatore, perché l'allenatore avrebbe inculcato in loro il gioco alla cazzo di cane, però loro fanno quello che possono, perché ormai non riconoscono più la guida tecnica di quello lì che è saluto in panchina. Ripeto, facciamo il countdown, come dicono gli americani, il countdown, il final countdown, come dicevano, di Europe negli anni Ottanta, sperando che arrivi presto Juventus-Monza, dove speriamo di fare tre punti e che non servono per andare in Champions League, me lo auguro di cuore, e basta, quindi il voto aggiorato voi, per me è sempre lo stesso, è sempre quello rotondo di voto, quello che è zero, perché zero nel senso che non c'è. A Maresca do sei, vi spiego perché, Maresca non è un arbitro che in passato mi piaceva, però ultimamente secondo me è maturato, come è giusto che sia un professionista, a mio modo di vedere, quello che dicevo prima di Locatelli, dopo tre anni uno impara e migliora, Maresca ha imparato e migliorato, ha gestito bene la partita, è stato anche abbastanza buono con Locatelli e con Gatti negli interventi che hanno fatto pericolosi, perché li potevano munire, giustamente, però ha visto che erano sì pericolosi, ma erano scontri di gioco dovuti all'irruenza andando sul pallone, quindi per me ha arbitrato bene, e quindi gli do un bel sei e mezzo, perché se lo merita tutto, quindi per il resto, altra cosa non ce ne sono state, la partita è stata abbastanza nervosa, lui ha saputo tenere in piedi, ha espulso Juric, e per me un arbitro che spalla Juric merita sempre un voto alto, perché Juric ha un rompicoglioni, diciamo le cose come stanno, Juric ha un rompicoglioni, a me Juric proprio non piace un cazzo come allenatore, io non so come possono esserci degli juventini che vorrebbero Juric o quelli che volevano Gattuso, cioè ragazzi nel calcio non ci vuole mica solo la grinta, è vero che la Juve manca di grinta, ma ci vuole tecnica tattica, quindi prendiamoci Diago Motta e lasciamo Juric andare dove cazzo ne ha voglia lui. Bene, io vi saluto, vi auguro una buonanotte, ennesima partita di merda della Juventus, adesso aspetto le prossime sei partite di merda, sperando, ripeto, che il Bologna, l'Atalanta e la Roma non ci scavacchino tutte e tre, quindi questa sera mi tocca attifare il Monza, pensate un po', mi tocca attifare il Monza perché c'è Bologna-Monza, ma penso che prenderà due pappine e andrà a casa, paladino, buonanotte.